Allora, vediamo se Crocetta ora riesce anche a parlare con noi tranquillamente. Crocetta, eccoci. Sì, pronto. Allora, caro Crocetta, lei si ricandida. No, ieri ha annunciato di voler correre ancora, è arrabbiato con il Partito Democratico, secondo me anche le sue buone ragioni ce le può avere. Perché ha scelto di ricandidarsi? Dunque, la sua giunta ha cambiato, questo dicono anche i suoi numeri e anche i suoi detrattori, 58 assessori. Beh, diciamo che sono stati i partiti che hanno cambiato 58 assessori, per essere chiari. Io sono partito con un progetto civico, questo progetto civico è stato messo in discussione subito per elezione, perché i partiti funzionano così. Quando sono in campagna elettorale dicono delle cose, poi quando vincono ne fanno altre. Per cui io mi sono trovato senza una maggioranza parlamentare, perché la legge elettorale siciliana non dà la maggioranza al Presidente. E dopo di che devi trovare una maggioranza parlamentare, se vuoi fare delle leggi, se vuoi entrare avanti. Dopo di che abbiamo fatto prima il governo dei tecnici e poi i partiti, dopo un po' non lo andava, da due anni e mezzo, da quando sono entrati i deputati, in giunta il governo si è stabilizzato. Quindi c'era un problema, se vogliamo, anche di condivisione dei partiti rispetto a un progetto politico. In modo paradossale, quei partiti che hanno voluto il rimpasto politico... Però no, scusi, al di là di questo, la questione che oggi tutti si chiedono è, Crocetta decide di ricandidarsi, il fatto quotidiano... Ma io guardi... No, no, prego, prego, poi voglio sentire la collega da Milano. No, però sinceramente io non ho detto che mi ricantido, io ho detto che voglio le primarie, che è una cosa un po' diversa, cioè io dico che non posso essere escluso dalla corsa da un complotto di potere oligarchico, io voglio che sia la gente, il popolo democratico, il popolo del centro-sinistra a decidere chi deve essere il candidato del centro-sinistra. Tienca presente... Se non vi fanno fare le primarie, scusi, Crocetta, per capire, fuori dal politichese, qualora non vi facessero fare le primarie, lei sarebbe disposto a candidarsi comunque però, immagino, o no? Ascolti un attimo, hai sentito il partito democratico e dello statuto del PD? No, sì, non dicevo che lei a un certo punto non mi ascoltava e se ne andava e così mi lasciava solo in termissione. Mi sono anche seduto. Non ho pensato mai una cosa del genere. Sono qua, seduto. Ecco, sinceramente. La posso guardare come al Cineforum, da qua. Ho Crocetta sul grande schermo, sono al Cineforum, sono qui. Ci guardiamo, ci guardiamo così, a distanza. Ecco, bene, io le volevo dire questo. Mi dica. Ai sensi del partito dello statuto e del partito democratico, il presidente uscente è automaticamente candidato, quindi il legittimo candidato del PD sono io e qualora i componenti della coalizione o altri esponenti del PD volessero non accettare questo, dovrebbero avere il 30% dei componenti della direzione che sostengono la loro candidatura per le primarie. Quindi qui il tema è, non è se io sono candidato, se io non sono candidato, il tema è sul piano della legittimità statutaria e della democrazia. C'è un presidente uscente che ha diritto ad essere candidato, questo presidente uscente viene fatto fuori da una decisione che non si sa manco da chi viene assunta, non c'è nessuna ratifica formale rispetto a qualsiasi altra candidatura, non si è tenuto conto di tutto questo. Per me in questo momento, prima di essere una battaglia per la mia autocandidatura, per essere chiaro... Sì, è già, è una battaglia, no, ho capito adesso, ho capito... È una battaglia di democrazia. Cioni, la vicenda crocetta, la Sicilia è interessante perché qualcuno ha detto, beh, da lì si capirà un po' quale sarà anche il destino del cosiddetto continente, come i siciliani chiamano il resto del paese. Cioè da lì si sta giocando una partita che in realtà ha una valenza nazionale. Prego, Luisa. Ma guarda, io sono siciliana, quindi figurati se non lo conosco il problema. Io credo che...